Immancabile come ogni periodo natalizio da moltissimi anni, vedremo tra poco anche quanti e il perché, arriva Spezia Confidential. Quali sono le novità di questo numero? Allora, intanto che è il sessantesimo, quindi il sessantesimo Natale dal 1959 che esce tutti gli anni in edicola, sia Pasqua che Natale. In questa edizione del Natale c'è la prima grossa novità che è il formato. Abbiamo ridotto il formato per agevolare il lettore adattandolo ai format attuali. Poi c'è un'altra novità, proprio in occasione del sessantesimo compleanno facciamo un regalo ai nostri lettori abbassando il costo da 3 euro a 2 euro in modo da festeggiare tutti insieme. Mi leggo ai vari argomenti, che è interessante in prima pagina, l'oroscopo alla Giunta, quest'anno non abbiamo dato voti, ma abbiamo cercato di prevedere un futuro orosio per il prossimo anno. Sono appunto i 60 anni di Spezia Confidential e per questo compleanno c'è anche un evento particolare per festeggiare con la città. Esatto. È un evento che ci riempie di orgoglio perché a partire da lunedì 16 a sabato 21 alla Biblioteca Ubaldo Mazzini ci sarà una mostra dedicata ai 60 anni di Spezia Confidential. Siamo veramente felici. Il patrocinio è del Comune della Spezia. Tutto si è realizzato in poco tempo. Martedì 17 alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione e da lì in poi quindi sarà aperta al pubblico la mostra. Si potranno anche sfogliare alcuni dei giornali di questi 60 anni? Sì. Per quelli più vecchi magari saremo noi a fare il mestiere dello sfogliatore, però sicuramente sì, considerando che quello più antico che sarà in visione di tutti i giornali originali che saranno in mostra è del Natale del 1960, quindi qualche annetto ce l'ha.